Questa mattina gli agenti della Polizia di Stato di Barletta hanno tratto in arresto e condotto in carcere due fratelli marocchini di 35 e 42 anni, entrambi pregiudicati residenti nella città della disfida. I due sono responsabili di una feroce aggressione ai danni di un altro pregiudicato barlettano, avvenuta lo scorso 29 luglio in un vicoletto dal centro storico. Quel giorno diverse chiamate di alcuni cittadini giunsero in commissariato per segnalare un'aggressione nel borgo antico e così i poliziotti si sono recati sul luogo trovando la vittima con il volto tumefatto e sanguinante. Attraverso le prime testimonianze dei presenti e la visione delle telecamere di videosorveglianza, gli agenti sono riusciti a risalire i due aggressori che dopo aver colpito il volto del malcapitato con calci e pugni si erano impossessati di un borsello contenente diversi oggetti di proprietà della vittima. Prima di andar via uno dei due ha immortalato con il proprio cellulare il volto tumefatto dell'uomo come prova dell'avvenuto pestaggio. La vittima fu trasportata e ricoverata presso l'ospedale di Miccoli con una prognosi di 25 giorni. Stamane gli arrestati dopo le formalità di rito sono stati associati presso la cassa circondariale di Trani.